A Mondello la prima cosa che ha fatto la società Tramai del Palermo è questa struttura dove siamo per ora, che fu pronta nel 1912. Fu pronto e fu subito un grande successo, cioè ora c'era la possibilità di arrivare a Mondello e quindi questa struttura così magnifica fu subito adottata dai palermitani, che venivano qui a fare i bagni, le donne venivano la mattina prestissimo, fino a prima della guerra, venivano le donne la mattina presto alle 5, venivano portate qua, dentro ogni cabina c'era il botolo che si apriva e la donna scendeva al mare perché non doveva essere vista, non poteva essere vista con tutto che il costume era praticamente un altro tipo di vestito e quindi si facevano il bagno sotto lo stabilimento. Questi furono purtroppo eliminati con il restauro che ha fatto poi l'architetto famosissimo Didi, ora mi viene, lo mantenne in una sola cabina e non l'abbiamo mai trovato questa cabina dove c'è il botolo ancora per scendere al mare. Comunque qui praticamente la struttura prima era vuoto qua, cioè si entrava, non c'era niente, era alta, sopra ci sono le finestre che voi sicuramente avrete visto e quindi quando si entrava qua era un tripudio di luci perché sopra, sotto il mare e fuori era una cosa meravigliosa e quindi era sicuramente impressionante e venivano con il Florio i re, gli imperatori, i nobili, insomma qui sono passati molta gente del top dell'Italia. e durante la guerra fu occupato prima dai tedeschi e poi dagli americani e ho trovato le carte della requisizione della struttura dove c'è un inventario di tutto quello che c'è e poi la riconsegna dopo con quello che poi manca perché praticamente durante la guerra, quando sono arrivati gli americani, si andavano a divertire a Villeggea dove c'era un casino e quindi andavano a giocare là e spostarono tutti i mobili d'ucro perché qua c'erano tutti i mobili d'ucro, furono portati a Villeggea e da là o sono rimasti là o sono persi, non lo so. Abbiamo trovato pochissimi esempi di mobili che abbiamo fatto restaurare e ora sono in attesa di essere collocato da qualche parte qui dentro la struttura.